Non sono il commercio e la ristorazione a diffondere il virus, le aziende sono allo stremo, ci sono imprenditori che non ce la fanno più ad andare avanti sia dal punto di vista economico che da quello psicologico. Questo lo sfogamaro di Mario Checaglini alla vigilia dell'ingresso della provincia di Arezzo in zona rossa. Il direttore di Confesercenti ribadisce dunque che non è possibile pensare di battere il virus chiudendo le attività ed insiste invece sulla necessità di una strategia capace di uscire dalla pandemia in tempi ragionevoli abbinata ad azioni per evitare il fallimento delle imprese. Non sono queste le chiusure che risolvono i problemi, ha dichiarato Mario Checaglini. Non vogliamo apparire indifferenti ai gravi problemi di salute dei nostri concittadini ma non sono commercio e ristorazione a diffondere il virus. Secondo il direttore infatti il contagio si diffonde per altri motivi. Commercio e ristorazione sono vittime della diffusa irresponsabilità di chi va in giro senza rispettare le regole, di chi si assembra e non indossa la mascherina correttamente. Per contenere questi comportamenti non si fa molto, anzi non si fa pressoché nulla e non riguarda solo e soltanto le istituzioni, riguarda anche le famiglie le quali dovrebbero esercitare il loro ruolo genitoriale con maggiore efficacia e quindi esercitando più controllo del comportamento dei loro ragazzi. Da parte di Confesercenti conclude il direttore è un dovere esprimere solidarietà a questi settori economici che pagano un prezzo alto alle misure di contenimento del virus.